Salve amici di Advanced Italian, in questo video andremo a vedere la prova orale dell'esame CILS livello A2, certificazione di italiano come lingua straniera, prova del giugno 2012 che dura pochissimi minuti, 2-3 minuti la prima parte dove dovrete svolgere una conversazione con l'esaminatore il quale vi farà sostanzialmente queste domande a cui voi dovete rispondere. Nel secondo caso invece dovete scegliere uno di questi temi o l'immagine che avete qui e parlare per un minuto e mezzo circa. Ovviamente parliamo del livello A2, non dovete fare una conversazione molto dettagliata, dovete semplicemente essere in grado di rispondere brevemente. Vi farò vedere come fare. In base alle richieste che ho avuto negli altri video ho deciso di rifare questo video ma cercando di rispondere diversamente alle domande così vi do un altro approccio all'esame, magari potrebbe esservi utile da studiare prima dell'esame. Come ti chiami? Mi chiamo Marco, ho 23 anni. Quanti anni hai? How old are you? Ho 23 anni, vivo a Berlino. Con chi vivi? Vivo con i miei genitori oppure vivo con la mia fidanzata. Non è necessario dire la verità perché nessuno saprà se state dicendo la verità oppure no, l'importante è rispondere correttamente. Perché hai deciso di studiare la lingua italiana? Anche qui potete dare varie risposte. Numero uno. Ho deciso di studiare la lingua italiana perché voglio vivere in Italia, perché voglio studiare in Italia, perché voglio lavorare in Italia, perché la mia fidanzata è italiana e voglio venire a vivere in Italia, perché devo trasferirmi in Italia per lavoro e quindi voglio imparare anche la lingua per integrarmi facilmente. Hai mai visto in Italia quali città? Sì, sono stato una volta a Roma con i miei amici. Oppure sono stato una volta a Milano con un gruppo organizzato di tifosi del Milan per vedere una partita del Milan. Oppure potete dire sì, vado spesso a Palermo in vacanza perché lì ho alcuni parenti lontani che ci vivono. I loro figli sono miei coetanei, quindi abbiamo la stessa età e quindi siamo molto legati tra di noi e ci incontriamo spesso, quindi vengo spesso a Palermo. Potete anche dire no, non sono stato mai in Italia, però ho visto molti documentari e quindi mi piacerebbe molto visitarla il più presto. Cosa fai nel tuo tempo libero? Nel tempo libero mi piace leggere libri, mi piace suonare la chitarra, mi piace guardarmi un film, rilassarmi, guardare Netflix. Oppure mi piace muovermi, andare a fare una passeggiata, a correre in parco, a giocare a calcio. Oppure semplicemente mi piace fare qualcosa a casa come sistemare la biblioteca, sistemare la mia camera, magari andare a passare un po' di tempo con la mia famiglia oppure uscire con i miei amici. Quindi potete dire una delle tante risposte che io vi ho dato. Alla fine bisogna rispondere brevemente. Nel secondo caso invece dovete svolgere un monologo, quindi nessuno vi farà queste domande qui, ma voi direte ho scelto questo tema, è la numero 1, è la numero 2 oppure è la numero 3, e comincerete a svolgerla senza che l'esaminatore vi interrompa. Lui vi interromperà o più che altro interverrà per aiutarvi nel momento in cui voi non foste in grado di svolgere la prova. Il tuo cantante preferito, lo ripeto, dovete scegliere solo una di queste tre, ma io le svolgerò tutte e tre. Il tuo cantante preferito, il mio cantante preferito è Gigi D'Alessio. Mi piace tanto perché è il cantante preferito di mia madre, lei lo ascoltava moltissimo quando ero piccolo e quindi è cominciato a piacermi e ho cominciato a seguirlo anch'io. Spesso vado ai suoi concerti con mia madre. Siamo stati l'ultima volta a Milano l'estate scorsa. È stato bellissimo perché abbiamo comprato i biglietti in prima fila, quindi potevamo vederlo da vicino. Oppure potete dire no, a me non piacciono i cantanti italiani, ma mi piace la musica straniera, quindi il mio cantante preferito è Drake. Ho tutti i suoi CD, tutte le sue canzoni. Voglio vederlo anche qui in Italia. Appena arriverà a Milano andrò a vederlo, non vedo l'ora, eccetera. La tua città qui, ovviamente, essendo un esame per stranieri, conviene scegliere una città estera. Ad esempio, potete dire, la mia città è Berlino, io sono tedesco. È una città molto bella, molto grande, multiculturale, è la capitale della Germania. Ci abitano molte persone da praticamente tutto il mondo. È facile integrarsi in quella città. Si può vivere anche non conoscendo il tedesco, perché ci sono moltissimi stranieri e tutti parlano l'inglese, anche la maggioranza dei tedeschi. Ci sono molti posti belli da visitare, come la Porta di Brandenburgo, vari musei, il Parlamento, eccetera. Mi piace molto il centro della città. Ci passo molto tempo con i miei amici. Solitamente frequentiamo il bar X, che si trova in questa zona della città. È molto frequentato dai giovani, oppure questo pub, dove ci incontriamo spesso la sera per bere una birra. Eccetera. Quindi, una descrizione breve della vostra città, dove si trova, in quale paese, quanti abitanti ha, se è una città che ha molti stranieri oppure no. Potete anche dire no in questa città dove vivo io. È molto piccola, non ci sono stranieri, però è molto bella comunque, piccola, tranquilla, oppure movimentata, piena di vita, molto frequentata dagli stranieri, oppure dove la sera c'è molto movimento, eccetera. Se invece scegliete di commentare l'immagine, io vi consiglio di fare proprio così, di commentare l'immagine, perché si può trattare da diversi punti di vista. Potete dire, vediamo una piazza con una fontana, è una tipica piazza italiana, molto bella, molto visitata dai turisti, vediamo che ci sono molti turisti in giro, però ci sono anche molte persone che magari non sono turiste, come queste ragazze qui, che magari ne stanno approfittando per sedersi, per parlare tra di loro. Le piazze italiane non sono solo un punto di riferimento per gli stranieri che vengono a fare foto, ma anche per gli abitanti della città, che può essere per loro un punto di incontro interessante. Solitamente nelle piazze ci sono molti bar e ristoranti dove le persone possono approfittarne per passare del tempo tra di loro, per bere qualcosa, mangiare qualcosa. Potete dire, soffermandovi sulla cultura italiana, magari potete dire, la fontana è molto bella, l'Italia è un paese bellissimo, l'architettura è meravigliosa, a me piace molto visitare tutte le città italiane perché le piazze mi sembrano diverse tra di loro, quindi ne approfitto per fare delle foto, mi piace incontrare nuove persone. Questa potrebbe essere una piccola città, anche se conoscete la città, potete comunque mentire, potete dire che questa sembra una piccola città perché non ci sono molte persone e le persone che stanno lì si sono sedute nelle scale, ma se andate a Roma è difficile sedersi nella zona della fontana di Trevi, ad esempio perché ci sono tantissimi studenti, la zona è sovraffollata ed è impossibile trovare del posto per sedersi. Come potete notare si può trattare da punti di vista diversi, quindi per questo conviene scegliere questa foto. Si può anche trattare il tempo, potete dire che sembra una bellissima giornata d'estate, le persone sono in maniche corte, come potete notare, c'è il sole, fa caldo, quindi una bellissima giornata per visitare una città. Questo era quello che volevo dire, fate attenzione al modo in cui io ho cercato di rispondere, di analizzare le foto, cercate di sfruttare il tempo a disposizione, non parlate solo due o tre secondi, perché potrebbe non bastare. In descrizione vi lascio anche la playlist degli altri esami CLS A2 prova orale, dove potete vedere anche altri compiti, altri esempi di questa prova, che potrebbero esservi utili prima dell'esame. Vi ringrazio della vostra attenzione, ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!